Bene, ragazzi, volevo dirvi, si dice che vivi ogni giorno come se avessi vissuto tutta la vita per quel giorno, per cui, perché non giocare uno di questi giorni anche a guest e guest, indovina l'ospite? Eh? Chiamate l'840-0099-33, è il costo di un solo scatto in tutta Italia, prenotatevi, prenotatevi, ci sono tantissimi premi che vi aspetto, magliettine, DVD, colonne sonore, CD e così via. E salutiamo Luca, Luca che è stato poco pocavarato, però ha portato via il CD con la colonne sonora, appunto, di Manuela Zaniere. E io di qua devo chiudere, mi guardano tutti male, però ci vediamo domani, stessa ora, ciao. E per quanto riguarda il mio personaggio, ha aggiunto, beh, da bambino, pensavo che da grande sarei potuto diventare un grande mago. Eccolo allora Woody, il prestigiatore in giacca da smoking rosso fuoco, compice della Johansson e dalle prese, come sempre, con una serie di incredibili situazioni comiche e paradossali. Al fianco di Will Smith troviamo la bellissima texana Eva Mendes, che ricorderete sicuramente in C'era una volta in Messico e anche fratelli per la pelle. Per quanto possono essere economici, gli aerei costano sempre più di un biglietto al cinema. E a bordo non servono nemmeno i pop corn. Bene, buona visione e buona domenica e buona continuazione qui a Omnibus con Ingrid e ad Andrea. Noi ci vediamo la settimana prossima per altre uscite cinematografiche. Da inizio è tutto, ciao. E riequa, buon pomeriggio a tutti, ben tornati in questa incontratura. Quindi chi è 0-3? Perché lei è tutta in primo piano, bella, poi è tutta elegante oggi. Beh, tutta elegante. Guarda quanto sei elegante, mi vuoi far sfigurare, ma dillo. Ma lei, la sera mi chiede, come ti vesti tu domani così? Si mette in gizzo, lei si mette in paiera. No, sembra, sembra alla fine che ci mettiamo d'accordo, perché quando lui è magari coperto, io sono svestita, c'è un senso molto leggera. Sì, sempre ci mettiamo d'accordo. Quando lui magari è duro, io sono azzurra. Cosa interessante. Gianni, Gianni, me ne manca una, me ne manca. Una me ne manca. È incredibile, incredibile. Allora, 3 milioni 225 mila euro. Controlla, tu sei arrivata, te ne manca una. Sì, ma quella di mezzo, non ti sbaglio. È possibile. Si è interrotta la sequenza, dai. Cominciamo la nostra puntata di preview con un film di fantascienza. È ispirato a un romanzo di Michael Crichter. Che poi è l'autore di bestseller come Jurassic Park e il mondo perduto. Timeline segue le vicende di un archeologo che si ritrova nel 1357. Si ritroverà nel bel mezzo di una guerra feudale e combatterà con spada, scudo e armatura. Uno, sette e otto. Dai, decido io. Era l'amico del cuore del matematico, John Neff. Ok, ok, ok. Andato, andato, andato. È Paul Bettany. Of course. È già... Bravo, bravo. Grazie, grazie. Che hanno trasmesso ultimamente il destino di un cavaliere. Che mi è piaciuto molto, non l'avevo visto. Comunque, a parte questo... E anche Wimbledon l'ha fatto ultimamente. Ah, che bene. E poi devi dirmi quello che ti dicevo subito. È già visto? È sì, carino, molto carino, sì. Bene. Question del possible. Ed in questa nuova realtà pian piano arriverà anche la fiducia della terribile Miranda. A scapito però della sua vita privata è naturalmente dell'amore. Vediamoci una qui. Telefono Milena. Si chiama dall'Italia 08782002. E invece per chi chiama dall'estero il numero 08002009. No, 0092002. Ah, 0080020092002. E' già. Va bene. Ragazze, cosa facciamo? Diamo il via alle telefonate? Lo date voi? Chi è che dobbiamo salutare? Vanda. Vanda, da te, è mia utile. Saluto anche mia zia. Ah, tu devi salutare... Della Germania. Ragazze, anche voi altissime, anche... Vado. Andiamo con il via alle telefonate. Dunque, reggetevi bene al vostro divano, alla vostra poltrona o ovunque voi chiate, perché adesso vi facciamo vedere una clip, appunto, molto terremotata, di appunto terremoto. Pudiamoci forte, vai. Tre, il morboso rapporto tra Alessandro e la madre Olimpia. Quattro, l'impeta della regia di Oliver Stone. Vi ho convinto? Speriamo di più.